salve a tutti ragazzi bentornati sul canale oggi voglio fare un video particolare perché ho fatto un estemporanea qualche giorno fa in cui parlavo della mod che ho realizzato che forse avete visto sul canale e ho trovato molto interessante subito dopo ho postato uno scatto dove ho chiesto se sareste interessati anche a un'altra delle mie più grandi passioni ovvero la fotografia o anche il videomaking insomma quindi tutto quello che utilizzo il mondo della fotografia il mondo dell'audio eccetera eccetera ora ho sistemato un po' il setup quindi ho fatto un po' di upgrade al canale sia dal punto di vista audio sia dal punto di vista video luci ho sistemato un po' di cose una cosa mancava quindi la cosa principale che volevo ancora implementare che comunque giustamente molti hanno anche lamentato in tanti video è l'audio la qualità e la pulizia dell'audio quindi ero molto incentrato all'acquisto di un nuovo microfono un microfono da poter utilizzare in maniera molto più complessa duttile possiamo dire perché ho diverse necessità non devo soltanto montarlo sopra la macchina da presa e girare per fare i vlog quella è una cosa che faccio davvero molto di rado però volevo anche una buona qualità in casa quindi diciamo non sono andato sul classico rod video micro quel piccolo microfonino che si può montare sopra la camera mettere un'immagine che comunque ho avuto la possibilità di provare davvero ottimo un ottimo microfono perché comunque per me sarebbe stato un po' troppo limitante e la novità c'è il la scoperta di un nuovo microfono ovvero del video mic ntg visto su un video di synergo mario palladino e anche di la recensito saggiamente e maurizio saggiamente insieme a tanti altri microfoni mi hanno fatto capire che quello era il microfono che faceva per me ovvero un microfono che si poteva utilizzare sopra una macchina da presa che aveva la possibilità di funzionare anche come microfono da studio quindi attaccare un computer per fare delle live come diciamo cardioide oppure anche per poter fare delle registrazioni esterne come shotgun principalmente quindi era diciamo la completezza però era un po' grande e anche un po' costoso parliamo di 270 a 260 euro solo per il microfono ora ero lì per scegliere su che cosa comprare stavo quasi per prendere il video mic ntg della rod quando ho scoperto che è appena uscito il video mic go 2 allora il video mic go io non l'avevo mai preso in considerazione in quanto era troppo simile al video mic al video micro quindi quello piccolo con una qualità leggermente superiore però comunque stiamo parlando della stessa tipologia di microfono quindi per me sarebbe stato sì più costoso del video micro ma più limitante quindi non avrei avuto chissà quale grande upgrade utilizzando quello rispetto al video micro e quindi non l'ho visto mai non sono mai andato a guardare questa tipologia di microfoni finché non mi sono reso conto per puro caso seguendo alcuni canali inglesi americani che è stato appena presentato il video mic go 2 che principalmente stiamo parlando del di un microfono che fa parte di quella categoria dei video mic go ma che prende praticamente tutto quasi tutto dal video mic ntg quindi un microfono decisamente superiore dalla qualità decisamente superiore ma soprattutto da una più grande capacità di effettuare diverse cose quindi è molto più duttile molto più conveniente conveniente appunto non nel senso di un microfono che costa poco ma conveniente perché mi permette di ricoprire più ambiti anziché comprare appunto diversi microfoni per ogni ambito quindi perfetto questo è un microfono perfetto e non vi posso mettere un link perché ancora non è comprabile non si può acquistare e neanche dal sito della rod.com dice che in italia ancora non ci sono venditori è stato presentato da poco ci sono alcuni siti che diciamo rimandano al preordine per ora vi metto qualche link per dargli un'occhiata vediamolo adesso in questa piccola carrellata in cui facciamo vedere qualche piccola immagine andiamo sul sito della rod in cui andiamo a leggere le caratteristiche tecniche di questo magnifico microfono e poi appena uscirà entrerà a far parte della mia attrezzatura sono davvero molto felice di questo perché sono stato davvero molto fortunato eccoci qui sul sito della rod nella pagina appunto dedicata al video mic go 2 fantastico vediamo subito che le tra le caratteristiche principali vediamo che appunto un microfono con funzionalità shotgun super leggero solo 89 grammi non è richiesta nessuna batteria infatti all'interno una batteria inclusa tris uscita da 3,5 per uso anche con le fotocamere quindi sicuramente anche con smartphone e usb sicuramente di tipo c ma andiamo a controllare uscita usb con l'utilizzo di dispositivi ios android mac e windows praticamente con tutto abbiamo accesso anche al diciamo alle funzioni smart con l'applicazione rod fantastico davvero fantastico comunque è un microfono che secondo me esploderà cioè farà sicuramente sarà la morte del video micro perché comunque non credo che il prezzo superi i 100 euro nell'effettivo perché guardando il prezzo in dollari siamo intorno agli 80 dollari circa ho visto alcuni prezzi da alcuni rivenditori che facevano il preordine in germania che partivano da 109 euro spedito quindi comunque stiamo parlando di un prezzo abbastanza incisivo suono incredibile con facilità praticamente ragazzi questo è il video mic ntg in miniatura è il video mic ntg in miniatura farà le stesse identiche cose con ovviamente qualcosina in meno qualche piccola rinuncia forse un po per la qualità ma quello comunque stiamo parlando di un microfono davvero eccezionale ai limiti del professionale questo è piccolissimo molto leggero non darà fastidio infatti qua vedete ci fa vedere come può essere utilizzato anche per fare streaming per essere utilizzato anche per fare delle videochiamate lo si può connettere tranquillamente a un computer ad un ipad ad una macchina fotografica ad uno smartphone praticamente sarà un microfono che può essere utilizzato per fare qualsiasi cosa infatti qui vediamo è solo alimentato con usb quindi significa che se lo andremo a collegare tramite usb trasmetterà il volume quindi l'audio direttamente all'interno del pc e prenderà l'alimentazione direttamente dal pc quindi possiamo comunque anche dimenticarci di doverlo ricaricare se diciamo è quello il nostro utilizzo principalmente questi sono altri accessori e vediamo appunto specifiche ok sì usb c fantastico sono molto curioso di vedere il livello di rumore quindi il il noise di base di questo microfono perché secondo me se mantiene la stessa pulizia del suono del suo fratello maggiore stiamo parlando di un di un vero best buy davvero assoluto in confezione come possiamo vedere e troviamo appunto un un filtro anti vento quindi una piccola spugna della rod questo aggeggino che serve un adattatore anti shock per evitare rumori dovuti a vibrazioni sopra i corpi corpi macchina ed è anche molto utile per poterlo attaccare magari un treppiede per poterlo mettere appunto sulla scrivania e il cavo e aux per il collegamento fantastico davvero fantastico vediamo un attimo adesso il il video sopra saliamo un po eccolo qui lo mando avanti veloce che già gli ho dato un'occhiata però possiamo dire che in questo piccolo trailer ci sta garantendo cioè ci sta dando la conferma di tutto quello che abbiamo letto un microfono fatto per tutto wow detto questo ragazzi sono molto felice di questa cosa perché finalmente ora ho trovato il microfono che fa per me un microfono economico costa circa 100 euro quindi meno della metà quindi quasi un terzo di quanto avrei voluto spendere praticamente e quindi sono molto felice non vedo l'ora che esca e di poterlo utilizzare per portare un upgrade finalmente dal punto di vista audio questo canale e liberarmi del filo lavalier anche quando sono in casa quindi è fantastico detto questo ragazzi spero che questa serie di video vi piaccia ho voluto iniziare con questa piccola novità in quanto appunto è una novità assoluta e quindi magari forse sono anche il primo ancora a parlarne su youtube italia perché è davvero appena uscito e appena arriverà inizierò anche a fare una carrellata di video in cui vi farò vedere appunto la mia macchina da presa le mie luci la mia attrezzatura e ovviamente se vi può interessare anche altre tipologie di oggetti per la ripresa detto questo ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto vi invito a lasciare un like iscriviti al canale se ancora non l'avete fatto e al prossimo video di Jack Review ciao ragazzi